Nell'episodio precedente Ehi! Tutti due Vai! Esci! Vai! No! Levati! Fermo! No! No! Levita il cazzo! Chi è il cazzo? Mi sono pisciata solo Porca cazzo di levita il cazzo! Troppo! Leva la scaletta per scende! Leva la scaletta per scende! Quanti cazzo? Oddio! Sono tutti lisci! Sono tutti lisci! Quanti sono? E sparano tutti a me! C'è chi? Quanti sono? Troppi! Quanti? Quanti sono? Sono 32! Aia! Aia! Mi hanno stuprato! Mi hanno stuprato! Io posso... Mentre una cosa in questo momento qua Qua ci sono! Scavo da sottoterra! No! No! Puoi levare quel legno del cazzo! Alla scaletta! Porca troia Lapo! Ma siamo i vecini! Leva la scaletta del cazzo! Sono salvo! Sono salvo! Sono arrivato in corsa! Fermo! Anch'io! Sto arrivando in corsa! Per favore Lapo! Leva quella scaletta lì! Un solo blocco! Sto facendo una cosa utile! Mi aspetta! Dammi il piccone! Dammi il piccone! Oh ce l'abbiamo fatta! Ah ah! Yes! Ci sono! Ci sono! Fermi! Datemi il materiale con... Prendo la lama e vado via io! No! Fermo! Ho preso favore! Perché? Andiamo vai! No! Uno ciascuno! Un blocco ciascuno! Io ce l'ho! Allora uno per il materiale per favore! Tieni un po' di pietrisco! Bene! Io ce la faccio! Ce la faccio! Con calma! Lapo uno alla volta! Troppo i gast! È chiuso di nuovo! Lapo da mi lascia! Da mi lascia! Fermo! Levati Giacomo! Levati! Levati per l'amor di Dio! Grazie! Levati! Lo ca! Fermi! Ma che cazzo è che ce la metti? What? What? No! What the? Dov'è la spada? Opea! Io ci sto riuscendo! Sto facendo il blocco! Ce la faccio! Giacomo c'è la spada! No! Si ce l'ho io! Ce l'ho io! Te la riso adesso! C'è un piccone io! Fermo! Ho il piccone io! Fermo! Esci! Ce l'ho fatto ormai! Non lo ho levati! Non lo ho levati! Ti do la spada! Tieni! Ti do la spada! Fermo! Tieni la te! Tieni la te! Tieni la te! Ci provo adesso! Corro! Ci provo io! Merda! Vai! Sono salvo! E non ci abbiamo più il piccone vero? Eh no! Potevi almeno lasciarlo! Testa di... Dimmi! Di... Abbiamo venuto il petisco! Ce la posso fare! Non è vero! Abbiamo una possibilità! Non è vero! Scappo! Non ce la farei mai! Sì, però... Eh, infatti, sono ritornato sotto! Al calduce! Aspetta, no, dai! Comunque ce la posso fare! Cioè, se mi impegno... Eh... Il carrello è più veloce di me! Oddio, 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 oddio! Mi stanno shottando come non mai mi stanno shottando come non mai mi stanno shottando come non mi stanno shottando come mi sono fatto! Mi potate portà! Arrivo io, fermo! Napo, sono tanti! Eh, sono quaranta! Sono quaranta mila, non quaranta! Sto morendo, veramente! Aspetta, andiamo insieme! No, questo episodio è etico! Ci sono evitato l'uncino quando mi hanno... Oh! Mi ha sparato in faccia dalla base! Eh, sono morto! Eh, ho perso la spada, mi sa, eh! Di mandarci di corsa! Fermo! Andiamo di corsa, no! Muoviti! La spada c'è sempre! No, non la spada... La spada non si può fare! Cioè, ci sono robicati! C'è un superpopulazione di gas! Queste nuove da matti... Ah, ma le puoi usare come soprammobili da quanti ce ne sono! In canti cattico! Sono morto! È come dei mobili all'idea sticano, odio, sono pagatissimo! Sono bagatissimo! Sono bagatissimo e noce marcio! Ma sono morto di nuovo, amore! È in possese, sono troppi! Anzi, è passato a morte! Eh, bene! Ho la spada! Ho la spada, ce l'ho sempre! Arrivo io, fermo! non riesco a prenderla ci sono anche blocchi, sta laggando non... ecco sta laggando non la riesco a prendere ci stanno uccidendo fra loro matteee fermo ci sono, non ci so uno, come ho fatto? oddio troppi cast oddio ho ripreso la spada sono morto come? sono vivo perchè ti lagga così tanto ma ci sono troppi mob devi cancellarli per favore troppi mob, sta laggando il server ho preso la spadona, ho preso la spadona, ho preso la spadona sono vivo, sono vivo, fermi, corri corri fermo mi prendo un po' di vita ci provo io, ci provo io, ci provo io, ci provo io ora anch'io ti stanno uccidendo fra di cuore, è gasto durante questo mi spettesse di laggare oddio ok ora ci sono matte però basta, levani alcuni, per favore, sta laggando sono pronto sono troppi oddio ci sono ci sono 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 anch'io, ci sono io, io sono sono anch'io, ma mi dai la 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 ci provo, lana e blocchi, lana e troppi dove sono? una lana e blocchi per favore ma io, ma chi è? nulla che mi stanno sparando, non so chi da niente favore a altri blocchi, quattro di questi non non so ma anche due fuori a me ma anche due fuori a me ma a te oh ma e sono quasi arrivato sono quasi salvo c'è uno giochi di meta è shottato ovviamente ma facciamo il perimetro, facciamo fermo e allora dobbiamo finire poi cancelliamo il mondo ma prima dobbiamo farci allora io prendo un piccone troia eva ho due cuori ha così tanto aia ma chi è che mi sta picchiando cioè sono arrivato dai gas ma aperto la chest che avevo cliccato prima quando ero allo spu e ringraziamo l'host di Matteo Angeli grazie grazie non c'è di niente non c'è di niente non c'è di niente piccone di legno invece di pietra che è miglia no da ma c'è troppa c'è no no ce la possiamo fare dobbiamo avere abbastanza materiale da rinchiuderli fuori spaccate spaccate ci sto provando ci sto provando ho tre cuori ho tre cuori ma mi ricordo la strada ho tre cuori ma mi ricordo la strada ando questa parte qui la taglio questa parte qui in cui si stanno no ma che la taglio si fa la che ne so velocizzata velocizzata sto prendendo la cosa per tapparvi eh lo trovo lo spawn è mezza giornata che sto girando intorno a sto cazzo di posto di merda pieno di creeper che non trovo il posto dov'è ti non hai idea ho fatto tutti del rumore che c'è qua vai ho una quasi 90 ho tre con sciocci non mi corre più non mi corre più non mi corre più oh facciamo così raga 26 blocchi ce la faccio esistere potrò uno scheletro facciamo così vai 3 2 1 via sto correndo ho 26 blocchi mi pregate per me mi stanno sparando mi stanno sparando mi stanno sparando ce la sto facendo sono vicinissimi i gusts stanno entrando dentro di me ho tappato io stai lì ho tappato io ciao 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 ciao